Giovanni Lamberti, ho visto il tuo ultimo spettacolo a teatro. Mazza quanto mi fa ride. Mamma mia però, eh. C'è primo viaggio tutti insieme a New York. Mamma dice sempre che ne è cima da raccordo. Ma fuori da raccordo. Ma non ci stanno le stesse cose che stanno dentro a raccordo, no? Non è proprio la settimana che abbiamo pianificato. Sicura che non è un problema. Ammazza, mi ringrazio. Dai che dobbiamo fare un sacco di cose. Sarò lontano Tiffany da qua. Chiamiamo un dottore? No, 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 grazie dottore. Filippo? Ma che sta succedendo? Per il momento è stabile, mamma. Il fegato è messo male. Dice che The Truman Show è uno dei dieci film da vedere prima di morire. La papà è quasi quasi stasera con uno sbaro. Ce la faccio? Per qualche giorno bene, Filippo. Non si tratta di qualche giorno. Non ti dovresti sforzare tanto, cazzo. Oh, ma tutti i dottori per venire a lavorare di qua! E te che te guardi? Io non so che progetti hai, ma ti prometto che li affrontiamo insieme. Amici per la pelle. Ma tu sei contento di avere un amico come me? No. 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 No.